Musica Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il Padre mi ha chiamato, ancora giovane, a lasciare tutto e a seguire Gesù. Sento però, rivolto anche a me, il richiamo di oggi. Quando cerco qualcosa per la mia soddisfazione, è come tenessi a una ricchezza che intrancia il mio servizio al Signore. O Gesù, dona a tutti noi, tua chiesa amata, un cuore ricco solo del tuo amore. Signore Gesù Cristo, L'unica nostra ricchezza ora e nell'eternità sei solo Tu. Perciò, rinunciamo volentieri e per tuo amore a tutto ciò che il mondo ci offre. Ed ora, accogli con fede la benizione del Signore. Nella Divina Volontà Ti benedico con la stessa benedizione con cui Gesù venisse la Sua Madre Santissima prima di iniziare la Sua Passione. Quindi, per mezzo di intercessione del Beato e Sempreveggio Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplicesso gello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divinvolere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della Sua Potenza restituendo la Sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della Sua Sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. si è risonato da un'infermità spirituale e corporale e arricchita e abilita di ogni bene e virtù sia la tua anima. e per circondarti di difesa contro il demonio il mondo e la carne insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create affinché tu le ricevi a tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce e l'aria l'acqua il fuoco il cibo le medicine e tutto afficheresti come inabissato e coperto con queste benedizioni. insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente gli occhi, le orecchie, il naso la bocca, le mani i piedi, il corpo, le viscere il rispiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo. ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dodiamo il Signore perché è buono, eterna infinita meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù che parla il tuo cuore e ti dice anima cara sappi che perché mi hai chiamato amore mio io ti benedico sai che sono il più sensibile degli uomini e che le tue dolci parole infantili esercitano un fascino sul mio cuore. Cari fratelli e sorelle a tutti voi pace e felicità nella divina volontà fiate sempre Ave Maria prega prega per noi e grazie a tutti e